signori miei signori miei oggi è il primo luglio e ha ufficialmente inizio la nuova stagione 2023 2024 e anche inizio la nuova era del napoli ma prima di parlarne vi invito ad iscrivervi al canale vi invito a lasciare un mi piace a questo video ovviamente se vi è piaciuto non mi piace se non vi è piaciuto vi chiedo anche di commentare se vi va se siete d'accordo soprattutto di commentare se non siete d'accordo e di iscrivervi al canale e rimanere aggiornati perché seguiremo tutte le vicende di casa napoli da qui fino all'inizio della stagione e poi dall'inizio della stagione seguiremo ovviamente quella che è la parte che preferiamo tutti quanti o almeno penso che preferiamo tutti quanti ovvero il calcio giocato comunque perché una nuova era del napoli perché da ieri è ufficiale che cristiano giuntoli dopo otto anni arrivato nell'estate nel giugno del 2015 lascerà il napoli non sarà più il direttore sportivo del napoli per accasarsi alla juventus io ringrazio cristiano giuntoli per quanto fatto adesso faremo anche un piccolo recap non gli auguro il meglio sicuramente perché non per niente non lo considero un traditore non come non ho considerato sarri un traditore ho considerato i guain ma per le modalità o se andato un po più alla luce del sole non l'avrei considerato per me il tradimento è stato il modo in cui guain è andato via ma io i sarri giuntoli non li considero traditori sinceramente da qui poi ripeto non gli auguro il meglio ovviamente ma perché va alla juve ma avrei detto se fosse andato all'inter al milan alla roma alla lazio alla fiorentina all'atalanta non perché va in una nostra rivale quindi non gli posso augurare il meglio fosse andato al celsi gli avrei augurato tutte le gioie di questo mondo però io devo ringraziare giuntoli a napoli perché e dobbiamo anche sgombrare un attimo il banco da qualsiasi tipo di equivoco non se ne sta andando un idiota perché io sto leggendo troppi commenti di ci siamo liberati di giuntoli con sopra tutte le liste c'è questa foto che sta girando ci siamo liberati del male giuntoli del nemico e c'era roga 15 milioni maximoic a 26 inglese a 18 verdi a 24 e altri a cui grassi a 11 il prestito di reggini machac e tutti questi bidoni che ha comprato giuntoli e ah finalmente se ne sta andando però sto anche leggendo troppi commenti anche dei commenti in cui oh mio dio no ha comprato Quara, Kim, Simen, Anghissà, Zielinski, Di Lorenzo no se ne sta andando un direttore sportivo incredibile oh mio dio come faremo come faremo allora il calcio prima cosa non lo sappiamo fare solo qua ma io questa stagione mi è sembrato poi che questa poi fosse la piega pure con Kim e ne parleremo anche di Kim in un altro video quindi ripeto vi invito a rimanere aggiornati non è che il calcio lo sappiamo fare solo qua il calcio si fa solo qua a Napoli quindi se va via giuntoli ce ne sono altri capaci di fare mercato capaci di dirigere se va via Kim ci sono altri difensori capaci di difendere se va via Ossiman ci sarà un altro attaccante capace di buttare la palla in rete e di fare un 17-18 gol non è che Ossiman, Kim, Giuntoli, Spalletti sono gli dei del calcio l'abbiamo visto quest'anno c'è stato un dio nel calcio ed è stato da noi e abbiamo vinto con lui si è vinto anche dopo anche senza dio quindi visto che né Giuntoli né Spalletti né Kim né Ossiman né Compagnia Bella sono a livello di Maradona si può vincere anche senza di loro quindi andiamo tranquilli però ripeto non se ne sta andando neanche lo scemo del villaggio perché Cristiano Giuntoli è uno che ti ha portato il Carpi in Serie A è uno che ti ha portato il Napoli molto alto perché comunque nel Napoli di De Laurentiis il Napoli più competitivo è stato sicuramente quello di Giuntoli diciamo se vediamo l'eree dei direttori sportivi Pierpaolo Marino, Bigon e Bigon tra parentesi Benitez ma manco troppo da parentesi anzi Benitez tra parentesi Bigon e Giuntoli sicuramente quello più competitivo è stato quello di Giuntoli ma anche per una questione proprio molto semplice e banale per un percorso perché si partiva alla C e quindi è difficile quello di Pierpaolo Marino fosse il più competitivo però ha creato un Napoli forte è uno bravo Giuntoli però non è il padre eterno quindi questo io vi invito sempre alla calma con Giuntoli se ne va anche Formisano che è il direttore dell'area marketing del Napoli e apro e chiudo parentesi anche è terminato l'accordo con Lete mi farà strano non vedere la scritta Lete sulla maglia del Napoli però ci sta magari stiamo avendo anche un po' questo stiamo un po' ricercando questi sponsor un po' più impegnati siamo passati da mi ricordo il 2015-16 Lete Garofalo no 2017 Lete Garofalo e Kimbo che era il menù del ristorante almeno adesso iniziamo ad avere Konami Amazon, Coca Cola iniziamo ad avere sponsor più importanti e spero che ce ne siano tanti altri però io ho un po' paura che De Laurentiis si sia un po' dato si sia un po' montato la testa perché ho letto che si era parlato un mesetto fa di Pietro Accardi come successore di Giuntoli poi si è parlato di Ciro Polito Pietro Accardi direttore sportivo dell'Empoli ma alla fine ha rinnovato la squadra toscana si è parlato poi di Ciro Polito del Bari ma sembra poi sfumata non se n'è più parlata come trattativa non ho sentito poi più nulla al riguardo che sono due direttori sportivi molto bravi io sarei molto contento di entrare più di Accardi ma anche di questo Ciro Polito ma la cosa che sembra più fattibile è Mantovani e Micheli che sono i due capi scout del Napoli che sono poi la vera forza secondo me del Napoli soprattutto Micheli che avranno un ruolo più importante nel cercare giocatori e nel proprio dirigere l'area tecnica l'amministratore delegato Andrea Chiavelli che gestirà la parte economica i contratti, le trattative dal punto di vista economico e il genero di De Laurenti è il marito della figlia che ha conseguito il diploma da direttore sportivo a Coverciano cosa che ha per chiudo parentesi mi fa veramente schifo perché questo qui è uno che è appena diventato direttore sportivo ed è subito il direttore sportivo del Napoli perché è parente di De Laurentiis che sono cose che a me faranno sempre schifo e io questo qui lo vedrò sempre di cattivo d'occhio sempre anche se mi porta e mi fa diventare il Napoli la squadra più forte del mondo io comunque lo guarderò con un occhio un po' perché a me queste cose non mi piacciono per come sono io di carattere non mi piacciono per come vedo io il mondo non mi piacciono scusate è De Laurentiis che avrà un ruolo ancora più da protagonista io ho un po' paura che una soluzione ci sta anche che non avere una figura ma averne tante che collaborino che ci può anche stare però io ho un po' di paura e De Laurentiis voglia ancora di più creare ancora di più accentrare il potere nelle sue mani ed essere lui solo là e questo sinceramente un po' mi spaventa ma vedremo come si evolverà io ripeto faccio un saluto a Formisano e lo ringrazio e gli auguro il meglio a lui sì ringrazio Cristiano Giuntoli non gli auguro il meglio perché neanche il peggio perché è brutto augurare il peggio a un comunque a un professionista che fa il suo lavoro e che è venuto comunque a Napoli e ha portato comunque due trofei tra cui uno scudetto e ci ha portato tanti giocatori che ora amiamo e che abbiamo amato tipo Allan tipo tipo Zilinski questi qui che continuiamo ad amare il ritorno di Reina per dirne alcuni e comunque vediamo cosa ci dice il futuro vi invito ripeto a rimanere aggiornati perché arriverà anche un video su Kim quando però arriverà l'ufficialità proprio definitiva dal Bayern e dal Napoli che almeno ad ora non è ancora arrivata che io sappia è arrivata una conferma dagli agenti ma comunque io voglio parlare solo quando ci sono le firme le foto e l'ufficialità per quanto ormai è una cosa fatta e ripeto molta calma perché non abbiamo perso sicuramente il più grande direttore sportivo della storia non abbiamo perso neanche il peggiore forza Napoli sempre e alla prossima grazie a tutti grazie a tutti